Occhio alla notizia in studio Marco Ferri In primo piano in questa edizione del telegiornale A Marche Nord è terminato il primo ciclo di vaccinazioni Sabato inizieranno i richiami, netta diminuzione ai sanitari Che non vogliono fare il vaccino e che hanno cambiato idea Lasciateci lavorare in sicurezza È l'appello dei titolari della storica trattoria di pesce dalla Quinta Al porto di Fano, l'asporto non risolve il problema Noi chiediamo soltanto di avere il nostro diritto al lavoro Per poterselo guardare noi, il nostro personale Perché poi dopo non piangiamo del fatto che molta gente starà a casa Molta gente fallirà I pro e contro della didattica a distanza per gli studenti delle superiori Spiegate da una psicologa È una sofferenza di cui si è consapevoli Ma la maggioranza dei ragazzi sanno anche che questo è un periodo che finirà E quindi in qualche modo sono consapevoli che devono tenere duro Scontro tra auto e bici in una rotatoria a bellocche di Fano 72enne trasferita al Torrette di Ancona con l'eliambulanza Ruba un'auto parcheggiata all'esterno di un supermercato a Lucrezia di Cartoceto Il ladro rintracciato dai carabinieri in un bar a un chilometro di distanza è subito arrestato Tra poco in diretta Primo Cittadino con il sindaco di Pesero Matteo Ricci Benvenuti a questa nuova edizione del telegiornale Occhio alla notizia, lo avete sentito dai titoli A Marche Nord sono stati vaccinati 2.600 sanitari con il 94% di adesioni Soddisfatto il direttore Edoardo Berselli che annuncia l'avvio dei richiami Il 23 gennaio partirà così la seconda vaccinazione Angelica Panzieri I sanitari e i dipendenti di Marche Nord hanno tutti terminato il primo round di vaccinazione Il 23 gennaio saranno richiamati per la seconda inoculazione Assieme agli studenti universitari di infermieristica Alla fine la percentuale di adesione è stata molto alta E si sono vaccinati anche coloro che inizialmente erano più restii La fotografia è quella di una macchina che ha funzionato perfettamente Come ha spiegato alle telecamere di Fano TV il dottore Edoardo Berselli Direttore sanitario dell'azienda ospedaliera Marche Nord Una campagna nella quale abbiamo cercato di recuperare tutti Perché a me piace un po' citare le frasi dei Marines Non lasciamo indietro nessuno E così abbiamo fatto telefonando persona per persona Per vedere se chi in un primo momento non aveva dato l'adesione Avesse cambiato idea Allora con i numeri che stavo guardando giusto stamattina Poi ovviamente sono numeri dinamici Perché qualcuno magari non ha fatto la vaccinazione Perché non poteva farlo, potrà farlo Ma comunque abbiamo raggiunto il 94% di adesioni Che penso che sia uno dei valori più elevati possibile Per cui direi che sono molto soddisfatto Adesso stavo cominciando a fare un'analisi per categoria Per cui per vedere se c'erano fasce Che magari avevano risposta un po' meno Capire il perché e cercare di coinvolgerle La prima classe che ho guardato è stata quella dei dirigenti medici E in realtà al di là di quello che si dice delle bufale che girano i nostri medici Sono 364 medici Su 364 362 hanno detto sia la vaccinazione Quindi due medici non si sono vaccinati Ma sono due donne che o sono in gravidanza O stanno progettando una gravidanza Il 23 partiremo con i grossi numeri Perché in realtà ieri abbiamo già fatto 20 secondi vaccinazioni Che sono quelli che il 27 hanno fatto il Vax Day Per cui abbiamo già fatto i primi 20 richiami Tra i quali anche il sottoscritto Sono vivo A di là di un po' di dolore nella sede di iniezione Ma questo è il minimo che ci si può aspettare Oltre ai richiami Andremo a fare anche concordato con la Regione Andremo a vaccinare tutti gli studenti di infermieristica Gli studenti delle professioni sanitarie Che accedono ai nostri corsi universitari Quindi loro saranno i prossimi Perché frequentano poi Con i tirocini obbligatori e quant'altro Frequentano la struttura ospedaliera E anche loro non saranno lasciati indietro La prossima settimana Le scuole superiori potranno tornare in presenza al 50% Se l'indice RT sarà ancora sotto a 1 E il numero dei contagi giornalieri si stabilizzerà Lo ha annunciato il Governatore delle Marche Francesco Acquaroli Che aggiunge con l'eventuale rientro in classe Partiranno alcune azioni che mirano alla sanificazione Al potenziamento della reazione degli ambienti scolastici 3 milioni per l'acquisto di strumenti per la purificazione dell'area E altre risorse per dotare le classi di interventi e ventilazione Inoltre per l'imminente rientro a scuola Gli studenti, i docenti e il personale scolastico di tutti gli istituti Potranno sottoporsi volontariamente al tampone antigenico rapido Nei punti dove si sta svolgendo lo screening di massa E a proposito di screening Acquaroli ha comunicato ad un mese di distanza Dall'avvio dell'operazione Marche Sicure Che sono stati raggiunti i mille positivi tra i testati Tutti soggetti completamente asintomatici A questi numeri, ha detto il Presidente Va giunto il tracciamento dei contatti stretti I tamponi di massa continueranno fino alla fine del mese Dunque come avete sentito Si tornerà probabilmente a scuola Stiamo parlando degli studenti che frequentano le scuole superiori Ma Letizia Marchionni oggi ha sentito il parere di una psicologa A proposito dei pro e dei contro della didattica a distanza Ansia, rabbia, disagi e paure In molti sostengono che sia forte lo stress collegato alla pandemia E che tra i soggetti più esposti ci siano i giovani Tra le cause principali vi sarebbe la didattica a distanza La quale ha profondamente cambiato la vita dei ragazzi Che hanno dovuto modificare il loro modo di concepire la scuola Così come l'avevano sempre vista e vissuta In realtà però, spiega la psicologa Clizia Puglie La DAD in quanto strumento, se utilizzata in maniera intelligente Può addirittura stimolare i ragazzi grazie alle potenzialità della tecnologia Ad oggi infatti rispetto alla prima ondata della pandemia La situazione è ben diversa Sì, soprattutto nella prima fase dell'epidemia C'è stato questo tsunami a cui nessuno era preparato E quindi chiaramente anche le scuole È comprensibile questo Quindi non c'erano anche delle linee guida Che adesso ci sono, come utilizzare la DAD L'insegnante era stato lasciato un pochino solo Perché chiaramente non c'erano ancora delle direttive Hanno dovuto imparare mentre dovevano insegnare E questo ha creato molto stress e molta anche confusione Di conseguenza è possibile che molti ragazzi Si siano sentiti lasciati soli Questi cambiamenti sono stati vissuti un po' come minaccia Invece che come possibilità di crescita Seppure inoltre manca ancora la socializzazione Ed anche una vicinanza fisica reale Due grandi limiti della DAD Ha poi continuato la dottoressa Puglie La situazione sta migliorando Poiché ci sono linee guida più chiare per insegnanti ragazzi E la loro stessa mentalità è cambiata È venuto fuori che è una sofferenza di cui si è consapevoli Ma la maggioranza dei ragazzi Sanno anche che questo è un periodo che finirà E quindi in qualche modo sono consapevoli che devono tenere duro Non è piacevole, non è piacevole per loro Ma non è piacevole per nessuno di noi Quindi non sembrerebbe una cosa così traumatica Chiaro che stiamo parlando di percentuali La maggioranza è così C'è comunque sempre dei ragazzi sofferenti Che hanno bisogno maggiormente di essere accolti In questa situazione e di essere seguiti Qualora si utilizzasse la didattica a distanza Con la vecchia metodologia della lezione frontale Dove c'è l'insegnante che spiega, parla Parla minuti, mezz'ora, un'ora e basta Lì abbiamo sicuramente degli effetti negativi Un'altissima deconcentrazione dei ragazzi E l'apprendimento veramente viene altamente inficiato La DAD è una nuova tecnologia E come tale però necessita di un approccio culturale Nuovo, diverso Facciamo le classi capovolte L'apprendimento i ragazzi lo fanno da soli L'insegnante dà un input e lo approfondiscono Conoscono, memorizzano Poi in classe, nella classe digitale Si fa il dibattito Si fanno dei gruppi di approfondimento Ci si scambia tutte le idee E gli approfondimenti fatti Quello è un atteggiamento È un apprendimento molto Più pregnante per i ragazzi Ed è sicuramente fondamentale Quindi questo è un aspetto nuovo Della didattica E grazie alla didattica digitale Si è potuto scoperchiare Ancora Covid Nelle Marche si registrano altri decessi Nelle ultime 24 ore Hanno perso la vita 16 persone Tra le vittime anche due residenti Nella provincia pesarese I nuovi positivi invece sono 157 A seguito del calo dei tamponi Eseguiti nella giornata di domenica In provincia di Piesa Urbino Sono stati rilevati 13 casi Infine negli ospedali della regione Ci sono 676 ricoverati In lieve aumento Sia i pazienti in terapia intensiva Sia quelli in semi-intensiva Torniamo a parlare adesso invece Delle difficoltà Le difficoltà che stanno affrontando I ristoratori Oggi abbiamo raccolto lo sfogo Dei titolari di un noto locale Di una trattoria di pesce Che si trova al porto di Fano Titolari che hanno affisso Due striscioni in segno di protesta Simona Zonghetti Bravo Conte Così facendoci butti sotto un ponte E' uno dei lenzuali affissi Davanti alle porte della Quinta Ristorante Fanese Aperto nel lontano 1964 Un locale storico della città Che oggi come tanti altri Sta affrontando un momento difficile Da qui il messaggio di disperazione È lasciato all'ingresso Sul lungomare di Sassonia E poco distante davanti a un cancellino Dello stesso locale C'è il secondo striscione Con su scritto La disoccupazione involontaria È il male più terribile Soprattutto se causato Dalla disorganizzazione politica Anche noi lavoriamo in sicurezza I lenzuoli sono appesi Da venerdì sera In concomitanza Con l'iniziativa promossa Da Ristor Italia Decine Gli imprenditori Che hanno lasciato le luci accese In segno di protesta Ma i titolari di questo locale Hanno voluto fare di più Scrivendo alcune frasi Per esprimere il loro grido di dolore Perché secondo noi È una situazione ingiusta Ci sono fatte delle regole Che non sono eque E non siamo una categoria Più a rischio di tante altre Quindi protestiamo Per questa cosa qua E se vogliamo mantenere le distanze È giusto allora Che tutti stiano a casa Uscire solo per le necessità Che le necessità Alla fine si riducono Nelle dita di una mano Quindi a noi questo Ci fa arrabbiare E ci umilia Soprattutto perché Veniamo penalizzati noi Noi soprattutto perché Noi siamo una Siamo una famiglia Che lavora solo con questa attività Quindi non è una famiglia Costituita da Un marito, moglie e figli Che fanno altri mestieri Ma a parte la nostra situazione personale Vengono penalizzati I nostri dipendenti Che ne abbiamo 15 Vengono penalizzati I fornitori I marinai Che ci portano il pesce E anche E anche i nostri clienti Che magari Hanno la distanza di sicurezza Hanno il piacere Di venire a mangiare In sicurezza E invece magari Devono andare a far spesa A fare file E tutto il resto All'inizio della pandemia Prosegue Barbara Ci hanno costretti Ad indicare su dei cartelli La capienza massima Delle sale Qui oggi Ci sono 95 posti Nonostante i grandi ambienti E a noi Precisa Andrebbe bene accogliere Anche soltanto 15 commensali A distanza di 3-4 metri Pur di lavorare Perché l'asporto Non risolve la situazione E quello che perdiamo adesso Lo perdiamo per sempre Rispettiamo tutti i malati E chi soffre Aggiunge Marco Renga Quello che chiediamo Sono gli aiuti E la possibilità Di riaprire In tutta sicurezza Ci dispiace C'è anche il discorso Di poter magari Dover fare dei licenziamenti Quindi Noi non vogliamo Andare contro la legge Non vogliamo fare Proteste assurde Tutto si può fare Tutto si può fare Anche perché poi Aprono centri commerciali La gente è tutta in giro Ammassata E qua invece Siamo contingentati Prendiamo il numero Prendiamo i nomi La gente sta a sedere Non va in giro Si fa molta difficoltà Andare avanti Si fa molta difficoltà Andare avanti Perché poi Gli aiuti sono pochi E' difficile anche Riceverli Quindi E' E' una brutta situazione Ecco Quello che voglio far capire Alla gente Che non è una lamentela Del fatto che Siamo i poverini Noi Chiediamo Soltanto Di avere il nostro diritto Al lavoro Per poter salvaguardare Noi Il nostro personale Perché poi Dopo non piangiamo Del fatto che Molta gente Starà a casa Molta gente fallirà Allora poi Mi dovranno spiegare Chi paga pensioni Chi paga anche Stipendi Anche No Agli enti Pubblici Cioè E' una cosa Che riguarda noi oggi Noi come palestre Teatri E anche Voglio anche Fare un saluto A miei amici Anche per quanto riguarda Le scuole di ballo Che ora Chiaramente Vista adesso la pandemia Sembra assurdo Però sono tutte cose Comunque aiuta anche Alla gente A stare meglio Tutto quanto Però Vogliamo solo Vogliamo solo Vivere con più serenità Ecco Tutto Si racchiude tutto in questo Maggior serenità Nel rispetto di tutti Di chi sta male E nel rispetto di tutta questa situazione La cronaca Uno scontro Tra un'auto E una bici Oggi pomeriggio Intorno alle 15.45 A Bellocchi di Fano Secondo i primi rilievi Una sessantenne Del posto A bordo di una Fiat Panda All'altezza della rotonda Tra via decima strada E strada della serrata Avrebbe autato Per causa ancora in fase di accertamento Contro una 72enne fanese Che era in sella La sua bicicletta Con una bicicletta A pedalata assistita Ad avere la peggio La donna di 72 anni Che è stata trasportata Al Torrette di Ancona Con l'eliambulanza Sul posto Intervenuta La polizia locale Di Fano Raggiungeva il parco Miralfiore A Pesaro A bordo di un treno Per spacciare Sostanze stupefacenti Un giovane straniero È stato fermato Dalla squadra mobile Della questura E sottoposto a controllo Gli agenti Hanno subito notato Che il ragazzo Nascondeva qualcosa In bocca E lo hanno indotto Ad espellere Quelle che poi Sono risultate essere Cinque dosi Di eroina I poliziotti Lo hanno poi Accompagnato in ospedale Per i dovuti accertamenti I sanitari hanno trovato Nello stomaco del giovane Ulteriori cinque involucri Che evidentemente Era riuscito ad inghiottire E altri tre Di grosse dimensioni Occultati nel retto Lo straniero È stato quindi arrestato Il giudice Ha emesso nei suoi confronti La misura cautelare Della custodia in carcere Per la gravità Dei fatti contestati Invece i carabinieri Di Colli al Metauro Hanno arrestato Per furto aggravato Un 33enne del posto Di origini lettoni Che nella giornata di sabato Poco dopo Mezzogiorno Ha rubato una Mercedes Classe A Ad una ragazza Intenta fare la spesa Al remercato Dopo neanche dieci minuti Dal furto I militari hanno notato Il mezzo parcheggiato Davanti ad un bar Situato ad un chilometro Di distanza L'uomo era all'interno Del locale Quando ha visto i carabinieri Ha tentato di fuggire Da una porta laterale Ma è stato raggiunto E bloccato Nei suoi pantaloni Occultate tra questi E gli slip I militari hanno trovato Le chiavi di accensione Inoltre Fra gli elementi A suo carico Ci sono anche le immagini Dell'impianto di videosorveglianza Del supermercato Che lo hanno ripreso Mentre rubava il mezzo Per poi allontanarsi A tutta velocità Questa mattina Durante l'udienza di Convalida L'uomo avrebbe dichiarato Che dopo un litigio Con la famiglia E la fidanzata Sarebbe uscito di casa Ed essendo a corto di soldi Doveva raggiungere Il bancomat di Calcinelli Il 33enne è stato condannato Alla pena di sei mesi Di reclusione E 300 euro Di multa Non perdere I 4 milioni e mezzo Di euro Già stanziati Nella precedente Legislatura regionale Che permetterebbero La realizzazione immediata Della ciclovia Tra Fano E Tavernelle A chiederlo Sono alcuni Coordinatori Delle liste Di maggioranza Dell'amministrazione Fanese Filippo Pucci Un corridoio verde Come questo Ce lo invidierebbe Mezza Italia Avviamo in fretta I lavori Perché questa ciclabile Diventi un collegamento Tra i quartieri Un bel progetto Che non va a compromettere La ferrovia Perché a lato Inizia con le parole Del sindaco Seri Il video dal titolo Che spettacolo Che ha come obiettivo Di iniziare al più presto I lavori Del primo tratto Di ciclovia Tra Fano E Tavernelle Alcuni coordinatori Delle liste Di maggioranza Fanesi Hanno invitato Sindaco E assessori Lungo il percorso Dell'ex ferrovia Fano Urbino Nella parte compresa Del territorio comunale Per approfondire meglio Ogni aspetto E per percorrere Quel tracciato In tempi brevi Questo tracciato Al momento È in situazioni Di degrado Ma si vede Come è nel verde E in maniera Molto rapida E sicura Sistemandolo Si può attraversare La città Collegando i quartieri Abbiamo l'opportunità Di farlo Perché il percorso Già esiste E con interventi Semplici Possiamo creare Davvero qualcosa Di utile a tutti Per la nostra città Un progetto Fattibile Grazie ai fondi Già stanziati Dalla precedente Legislatura regionale Che permetterebbero La realizzazione immediata Di circa metà Del percorso Tra l'altro Ci dicono Questa infrastruttura Incentiverebbe Anche il turismo In un percorso Immerso nel verde Che dalle colline Arriva fino al mare Questa ciclabile Potrebbe collegarsi Benissimo Con adesso La futura Ciclabile Che verrà fatta Ciclo pedonale Sull'Adriatica Potrebbe essere Veramente Una possibilità Per il turismo Appunto Che si avvale Delle due ruote Di poter frequentare Sia il lungomare E anche quello Di potersi poi Addentrare Nell'entroterra Nostro bellissimo La nostra bellissima Vallata del Metauro Secondo noi È una cosa da fare E da non perdere tempo Per poter Sviluppare Anche questo territorio Che ne ha tanto bisogno Nei prossimi giorni Verrà presentato Anche un ordine del giorno All'interno Del consiglio comunale Sì a breve Presenterò un ordine del giorno Che invita L'amministrazione regionale Ad avviare subito I lavori Per questa importantissima Infrastruttura Sotto tantissimi punti di vista Ricordiamo che abbiamo Già 4,5 milioni Stanziati Che finanzierebbero Più di metà dell'opera E non possiamo Lasciarci sfuggire Questa possibilità Il comune di Fano Ha ottenuto Un finanziamento Dal MIUR Di 49 mila euro Per eseguire Un'indagine Sullo stato Dei solai E dei controsoffitti Nelle scuole pubbliche Le verifiche verranno stabilite Con gli istituti Per non interferire Sulle lezioni Al momento Non è stato registrato Alcun problema Spiega l'assessore Fabiola Tonelli Ma vogliamo Mantenere alta L'attenzione Sugli istituti E sulla sicurezza Dei nostri studenti 110 mila utenti In sole 4 settimane Il Natale Che non ti aspetti Quest'anno si è concluso Con un boom di visite online E contatti Da tutto il mondo 25 proloco 50 mila accessi al sito E 60 mila persone Che hanno interagito Sui social Con il picco Delle dirette Sulle pagine facebook Si è conclusa Con un grande successo La digital edition Del Natale Che non ti aspetti Uno dei più grandi eventi Del centro Italia Che si è svolto Dall'8 dicembre Al 6 gennaio Nonostante le singole iniziative Siano state annullate A causa della pandemia Gli organizzatori Hanno pensato Ad una rete virtuosa Ma digitale Per far sì Che la manifestazione Avvenisse nel rispetto Delle regole E della tradizione Si il Natale Che non ti aspetti Ha dato un risultato Straordinario 110 mila contatti Grazie al lavoro Dei tanti volontari Stiamo lavorando Per il futuro Per mettere insieme Sia l'edizione digitale Che in presenza Quindi un grande successo Straordinario Tutto questo Grazie al lavoro Prezioso Di oltre 100 volontari Bartocetti Ha poi ringraziato La regione Marche Per il sostegno fondamentale L'ente infatti Ha dato un contributo All'iniziativa Coordinata Dalla Proloco Di Pesero Urbino In collaborazione Con la provincia E con Commercio Marche Nord Sì Un contributo Che abbiamo voluto Fortemente Che mi auguro Il prossimo anno Farà rivivere Ancora di più I nostri borghi Quindi un ringraziamento Speciale Alla Proloco Di Pesero Urbino E a tutte le singole Proloco Che hanno portato avanti Nonostante l'anno L'iniziativa Tramite i social E il sito internet Il telegiornale Finisce qui Subito dopo di noi L'appuntamento In diretta Con Primo cittadino Ospite Matteo Ricci Grazie Per averci seguito L'informazione Torna domani mattina Le 7 Con la rassegna stampa Arrivederci Grazie Grazie a tutti Grazie a tutti